De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Il nuovo atto aziendale dell'Asl di Avellino pubblicato qualche giorno fa, firma del direttore generale Maria Morgante, anima il dibattito sociale ma anche quello politico in Alta Erpinia. Nelle ultime ore incontro proprio tra la manager dell'Asl e del sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, che ha rilanciato le sue idee mettendo in luce la necessità di potenziare ancora di più il reparto di chirurgia presso l'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Allora, premesso che a mio avviso c'è un deficit politico che non riguarda l'Asl ma riguarda i sindaci stessi, i sindaci e quindi i partiti di appartenenza per chi appartiene a un partito, perché manca all'assemblea dei sindaci da tempo, un'assemblea che dovrebbe nominare il comitato di gestione, per cui i sindaci potrebbero essere tutelati e sentiti, ascoltati nei compiti che definisce la legge, quindi semplicemente un discorso di ascolto, non è che si va a incidere sulle decisioni che aspettano sicuramente al manager. Questo è un deficit della politica. Poi, per quanto riguarda la mia opinione, è che io ritengo che l'ospedale Criscuoli, che appartiene a 25 comuni dell'Alta Irpinia e non ad un solo comune, che serve un'utenza di più di 60.000 abitanti, debba essere un centro, un ospedale idoneo per l'emergenza e quindi avere tutto ciò che riguarda l'emergenza, anche per fare in modo che il centro Don Gnocchi continui ad essere l'eccellenza che sta. Allora, secondo me, in questo quadro, la chirurgia ha necessità di essere rafforzata e quindi io, pur la voglio dire lasciando il compito all'ASD di aver ragionato per dipartimenti, ritengo che non possa che non esserci una funzione complessa per quel che riguarda la chirurgia.